Io vorrei considerare di questo genere, trattarsi i miei interessi e anche un po' delle problematiche legate al mondo dei ragazzi. Giovanile e interessante. Di curiosità, di comunicazione scientifica. Sportivo e fresco. Vorrei semplicità e notizia d'arte per ragazzi della mia età. Involgente e ricco di informazioni. Vorrei che trattasse contenuti inelenti ai miei interessi e possibilmente per i miei progettivi. Pregan piassi in difficoltà e che forse non si viena costruttiva per la società dei giovanili. Lasciano da parte espressi in modo più accotibile. Attuale e aggiornato. Vengo informata sulle varie opportunità per i giovani. Giovanile, interessante e ricco di informazioni. Le nuove promesse in campo sportivo, dal ruoto all'atletica, calcio. Coinvolgente. Una parte dedicata allo sport giovanile o anche a gossip. Eventi organizzati da studenti e da gente che sia della mia età. Al passo con i tempi. Ruoghi che sono le applicazioni. Per noi vogliamo chiarezza e aggiornamento continuo. Spettente! Un grande in bocca al lupo a cronache per mani young. Vi auguro molta fortuna. Un in bocca al lupo a cronache per mani young. Un saluto e un bocca al lupo a cronache per mani young. In gamba cronache per mani young. Forte abbraccio. Un bocca al lupo a cronache per mani young. Un bocca al lupo a cronache per mani young. Un saluto e tanti auguri a cronache per mani young. Un bocca al lupo a cronache per mani young. Tanti auguri a cronache per mani young. Un saluto a tutti gli amici di cronache per mani young. Ciao! Sicuro brillante e poi insomma proprio regolare nell'uscita delle notizie e assolutamente elegante nel suo essere descrittivo negli avvenimenti di cronaca Oh ricordate che ci siamo anche noi su cronaca non è young anche di young evviva